Oh, finalmente sembra che le cose iniziano a muoversi nella direzione giusta. Certo, sempre è meglio non farsi prendere troppo dall'euforia, però almeno possiamo dire che questo primo mese dell'anno non è andato affatto male. Oggi torno ad aggiornarvi su come sono andati i miei investimenti nell'ultimo mese, a gennaio 2023, e vediamo un po' come si è comportato il mio portafoglio in relazione ai mercati che finalmente, dopo un anno terribile, sembrano aver dato un accenno di ripresa in questo inizio di nuovo anno. Partiamo allora subito con le varie categorie che compongono il mio portafoglio, a partire come sempre da quella più piccola. Le royalties musicali questo mese ricoprono l'1,4% del mio portafoglio. È passato esattamente un anno da quando ho iniziato ad investire con Anyhood Music e devo dire che i risultati sono straordinariamente positivi. Ci farò un video specifico a riguardo molto presto, ma intanto se non sapete di cosa sto parlando vi ricordo che ho già fatto un video in cui spiego cos'è Anyhood Music è perché credo sia un ottimo modo per diversificare maggiormente i nostri investimenti. A gennaio ho ricevuto il pagamento delle royalties per quattro dei miei cataloghi per un totale di 5,32€. Proviamo poi la categoria degli investimenti in startup innovative col 5,7%. In questa categoria non ci sono grosse novità rispetto al mese scorso e continuo quindi a detenere quote in tre startup innovative di cui due italiane e una americana che sono Blinkoo, EventFi e Outside. Vediamo velocemente anche la categoria NFT che ricopre il 7,15% del mio portafoglio e anche qui non ci sono grosse novità se non che ho aumentato leggermente la mia esposizione all'interno di Mobox. Mentre resta invariata quella in Sorair. Passando però alla parte più interessante troviamo prima di tutto il peer-to-peer lending col 9% del portafoglio. Qui continuo ad accumulare entrate passive da quattro piattaforme. Mintos che è quella con il rendimento più basso dove ho guadagnato appena 52 centesimi a gennaio. Bondora dove ho aumentato il mio capitale a 600€ e ho guadagnato 4,25€ con l'aggiunta di 45€ di bonus ricevuti. Abbiamo poi EventFi che mi ha pagato 4,25€ di interessi su un capitale investito di 970€ e infine Recruit dove questo mese non ho guadagnato interessi perché loro pagano solo a progetti ultimati. A questo punto non ci resta che vedere mercato cripto e azionario che sono le categorie più influenti all'interno del mio portafoglio e quindi quelle che fanno maggiormente la differenza. Prima di andare avanti volevo ringraziarvi perché nell'ultimo mese il numero totale degli iscritti al canale è cresciuto tantissimo anche se purtroppo ancora l'86% di voi guarda i video senza essere iscritto. Se vi piace questo tipo di contenuti e volete darmi una mano vi chiedo sempre di lasciare un like al video e di cliccare sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla ma a me fa molta differenza. Quindi vi ringrazio in anticipo se deciderete di supportarmi in questo modo. Il mercato cripto questo mese salta al 15,95% del mio portafoglio e già la percentuale fa intuire che è stato un mese molto positivo per le criptovalute. Gennaio è stato un mese iper positivo per le cripto e soprattutto per Bitcoin che ha fatto segnare il suo miglior mese da gennaio 2013 quindi esattamente 10 anni fa. È sicuramente un segnale molto positivo ma vediamo poi cosa succederà nei prossimi mesi. Intanto però grazie a questa spinta il valore delle mie cripto a gennaio è salito di oltre 1800 euro. A gennaio ho anche fatto un video specifico in cui vi mostro come è composto il mio intero portafoglio cripto quindi se siete curiosi lo trovate nelle schede. Positivo è stato anche il mercato azionario che a gennaio copre il 20% del mio portafoglio. A gennaio c'è stato un ottimo segnale di ripresa anche a Wall Street e sugli altri mercati globali dopo un 2022 che aveva fatto segnare un enorme ribasso soprattutto per i titoli growth. E grazie all'andamento positivo di questo mese i miei portafogli azionari riescono a recuperare in totale più del 10% del loro valore. Infine col 40,8% del totale la fetta più grossa del mio capitale è come sempre investito in un piano di accumulo sulla piattaforma Money Farm. E questo mese seguendo la schede dell'azionario recupera il 6,85% del suo valore totale. Vi ricordo però che se volete sapere nel dettaglio come sta andando questo pack potete guardare il video che ho fatto qualche settimana fa in cui vi mostro il mio intero portafoglio con importi e rendimenti in totale trasparenza. Come sempre io vi lascio in descrizione tutti i link relativi alle varie piattaforme che utilizzo per investire ognuno collegato ad un diverso bonus per voi anche se vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi prima di investire i vostri soldi fate sempre le vostre ricerche e le vostre valutazioni personali. Questo 2023 è iniziato bene ma se come me volete che continui ad andare bene lasciate un like per supportare il canale e noi ci vediamo al prossimo video.